Abbiamo qualcuno in arrivo, l'ultima arrivata si è presa dal letto comodo E due stanze gliele facciamo qui, sono tutti maschi veramente Abbiamo bisogno di cibo, tutti quanti ingaggiati in battaglia Riccardo va che ti ha rubato i pesci qua eh? Che pessima gestione che gli ho dato Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su questa serie dedicata a Going Medieval Allora, riprendiamo dall'ultimo salvataggio Abbiamo dato il benvenuto da poco a... chi era quella nuova che era arrivata? A Queenel E adesso vediamo cosa succederà Abbiamo qualcuno in arrivo, qui mi indica che abbiamo un attacco in arrivo Allora, Queenel, tu che caratteristiche hai? Vediamo un po' In cosa sei brava? Cucinare mi va molto bene Ma... nel combattimento me le... Quindi, ok, diamogli la lancia che è avanzata tra l'altro Equipaggia questa... questa arma Così quando arriveranno dovremmo essere abbastanza pronti, voglio sperare La sta impugnando, perfetto Vediamo un po' di abbassare Ok, volevo guardare un attimo il piano di sopra come era messo Stavano costruendo i letti, ok Io avevo costruito la stanza dell'eventuale prigioniero ma a sto punto non serve a niente Piuttosto mi sarebbe il caso forse di espandere la... la base La base alla base di tutto Quindi il piano inferiore Potrei pensare di allargarmi un po' dietro, insomma di fare una base un pochino più... più larga Perché no? Cosa c'è qua intanto che abbiamo sbloccato? Ah, la libreria La sedia di legno E il... l'appoggiarmi Ma l'appoggiarmi si può mettere anche tipo subito Qua Benissimo Poi questi tre giacigli, diciamo così, li andremo a levare appena i letti sono pronti A questo punto facciamo un'espansione di base Qua sul retro Quanto la facciamo larga? Non so bene ancora cosa farci, eh Ah, non abbiamo neanche abbastanza legno per questo Beh, intanto la costruiamo e poi vediamo Facciamoli raccogliere il legno Abbatti quest'albero Anche questo Non vedo tanto bene, devo dire la verità Ah, perché avevo cambiato la... Lo spessore della casa mi influisce anche su... sulle piante Ok, adesso vedo meglio Beh, insomma, butto giù un po' di alberi Qui vedo che stanno crescendo dei salici Che erano piccoli fino a poco tempo fa, adesso sono cresciuti, va bene Guarda qua quanti alberi da buttare giù Facciamoli fuori tutti Ah, guarda che modo sta pregando Andiamo se mi dà qualche pensiero suo Qua Allora, ha mangiato al tavolo e è contento Non è tanto comoda in questo momento Beh, se è anche inginocchiato per terra Ci credo È stato divertito La religione è soddisfatta Tra l'altro modo è una femmina No, adesso Sì, ok Non sono ancora bene a mio agio con la grafica di questo gioco Non riesco... Ah che, sono arrivati... adesso sono arrivati loro a pregare Uno alla volta pregano tutti Ognuno ha la sua religione Questo è cristiano, questo sarà pagano Sì, perché qua c'è la croce e qua c'è un... Un volto di pietra Va bene, ognuno il suo Qui c'è un sacco di roba da raccogliere Oh, quanta clay Prendetela tutti Prendetela tutta che ci serve Qui ci sono anche bacche Raccogliete tutto Tutta l'arba che ci serve Sarei curiosa di vedere... di capire come costruire un ponte Vediamo se me lo fa fare Magari tramite questo Me lo fai fare sull'acqua Oddio, me l'ha fatto disegnare Ma secondo me me l'ha fatto nell'acqua proprio Non ho ben capito cosa mi ha fatto fare Sì, me l'ha fatto fare... No, credo che non sia adatta questa cosa Sì, me l'ha fatto disegnare praticamente sul fondo del fiume Ma non è quello che volevo Volevo un ponte... un ponte vero Intanto però noto con piacere che le nostre caprette Stanno dormendo dentro il rifugio che gli ho fatto Quindi non è totalmente sbagliato quello che gli ho fatto Forse manca il tetto però Manca un pezzo di tetto che non me l'aveva fatto completare l'altra volta Aspettate che non sono ancora... Vediamo... Visibilità al tetto, esatto Quindi ne facciamo... Cosa è successo? Non lo so, ho usato un comando sbagliato probabilmente Ho toccato qualcosa di sbagliato mi sa Comunque niente, il tetto glielo ho fatto completare Loro lo usano per cui sono molto soddisfatta Sono solo due capra al momento Lui è maschio Lei è femmina 95% di latte Non è addestrata, non ha fame Quindi molto bene Sto cercando di capire se è incinta o se può esserlo Qui è legato al combattimento Non mi interessa Ok, non vedo da nessuna parte E la... L'aggitura Se è incinta sicuramente no Se può esserlo nemmeno Quindi... Oh, c'è l'auto salvataggio Va bene Vediamo cosa succederà insomma Qui intanto dormono tutti Togliamo la visibilità al tetto E dormono ancora per terra Tranne qui nel che invece si è pigliata al letto Brava lei L'ultima arrivata si è presa al letto comodo Mica scema Va bene Prossimamente avrete tutti un letto Qui stanno andando avanti a costruire il piano inferiore Ok Vediamo lì il comando di fare anche le mura Così lo facciamo per bene Questa base Per bene forse insomma Vediamo se è per bene Tipo così Potrebbe essere che ci sia un corridoio A logica potrei fargli un corridoio Ok E due stanze Due stanze da Cinque Cinque spazi per uno Mi può piacere Porta No, cos'è questo? Ah, una finestra No, volevo la porta Che è questa qui Una porta Io provo sempre a girarla Ma non la gira Dice con la Q E lei gira In realtà io clicco Ma assolutamente non lo fa Va bene E allora A meno che lo faccia qua Ah, così lo fa E poi nel momento in cui lo rimetto lì Si rimette come la voglia lui Vabbè Non discuterò molto questa cosa Una porta di qua E una porta di qua E due stanze Le facciamo qui Sopra gli farò Un ampliamento Probabilmente del Le farò Le facciamo subito Un ampliamento del Soffitto Che poi sarà il pavimento Per il piano di sopra E poi vedremo se Ampliare anche la parte su Vediamo insomma Un progetto alla volta Intanto mancano Dieci ore All'arrivo di Chi ci attaccherà Che mi anticipano Essere Un arciere E due Ma morder Non so cosa sia Probabilmente due Tipo assassini Comunque Tre persone in totale Aumentiamo un po' Il tempo Tanto è notte Qua dormono tutti Intanto io Do comando Di tagliare gli alberi secchi E di tagliare l'erba Per farci Il fieno Anche i funghi Perché no La nebbia battutina È sempre presente Vedo È anche bella Intensa Comincia ad essere Vediamo da vicino Questi cosa sono Legnetti Usateli Oh Ci sono i cerve che passano A proposito Noi non cacciamo Non c'è nessuno Che caccia Non c'è un Un capanno da caccia Fatemi controllare Produzione Il butchering table Ce l'abbiamo Ma il butchering table Produce Ok Produce carne Ma chi caccia la carne Devo dirglielo io Sì devo dirglielo io Caccia Ah È tama anche Potrei farlo Farla domesticare Non sarebbe male Avere una fonte di cibo Di carne Insomma in casa Tu cosa sei? Un lupo Oh lupo Lasciamo stare La volpe No Vediamo se ci sono altri animali Che potremmo domesticare Oltre ai cervi I animali che hanno pelliccia Per esempio Ah no però abbiamo già le pecole Che hanno pelliccia Per cui siamo a posto Qua ci sono solo cervi In giro Vedo Ma sì perché no Diciamoli di Di domesticare i cervi Tu sei Maschio Vai a domestica Il maschio E anche una femmina Maschio anche questo Maschio anche questo Tutti maschi Non è che M non indica No in realtà si perché hanno tutte le corna Sono tutti maschi veramente? In vero sì E dove avete lasciato le femmine Cicci Uh qua c'è un fagiano morto Prendiamolo Vediamo se trovo una cerva Femmina Tipo tu No sei maschio anche tu O non è questa l'indicazione Mmm Ma secondo me per forza Oppure non abbiamo cervi femmine nei paraggi Tu Fermati Tu sei femmina Esatto Vai Addomesticala C'è la divisione femmina da una parte E i maschi dall'altra Non ho capito perché Ma Vediamo di risolvere questa divisione Li faccio pescare anche ancora un po' di pesci Che qua ce ne sono diversi Che abbiamo bisogno di cibo Oh L'alcol è diventato aceto Interessante questa cosa L'alcol è andato a male Se il scrittore è diventato aceto Dov'è che è però? Eccolo qua Eh sì È diventato un disinfettante Ma pensa te Questa dinamica è molto interessante Molto bella Gatto se ne va in giro Mod Che sta giusta Costruendo Mi piace Mi piace Questi letti poi li trasferiamo Appena è tutto costruito Trasferiamo tutto Ah tra l'altro Ma senza porta Come fanno qua a muoversi? Oh Lost property Sono arrivati i filosofi Per Per Kinell Ok Quindi allora O ci Ci rifiutiamo Ci rifiutiamo Di restituirla E Secondo me Porterà una Una battaglia Oppure Ci arrendiamo E gliela restituiamo Ma io direi che Ci rifiutiamo Ci siamo Opposti Ok Pronte la battaglia E qui ci dice Quindi indicazioni su come Gestire la battaglia Ok dai Penso di riuscire a A gestirla Quindi Seleziono tutti Tutti quanti Ingaggiati In battaglia E col destro Le dico dove andare Ok Loro Sono qua C'è Cristiana Gils E Stonehill Ok Oh Addirittura con la mazza chiodata Questo qua Mazza chiodata Stanno cominciando il loro attacco Va bene Vediamo come Gestiamo questa cosa Allora Chi ha l'arco Cioè Tu Potresti stare tipo qua Anche tu potresti stare tipo qua Loro che invece hanno gli attacchi Gli attacchi di mischia Ti facciamo andare in avanscoperta Li attiriamo qui E loro attaccano Vai Attaccate lei Fermi tutti Allora Richard Tu vai con questo E Kinell con l'altra Oh Eh no Che non va bene che attaccate qua Che attaccate Mod però Ah ma c'è anche lei Mi ero scordata Che sono in tre Ok Una andata Tocca Cristiana Fatto Manca lui Oh Lei si è Per me che c'è C'è qualcuno Che possiamo catturare Forse Abbiamo vinto Intanto Due Sono 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 Morti Ricard È stato il più Coraggioso Vabbè ok Una sorta di Di cronaca di quello che è successo Però Allora Kinell Tu non sei ferita No Vediamo se me la fa prendere Prioritize Standing wounds Allora Aspetta Prima di Togliare la pausa Voglio capire Questo qui Lo posso trasformare In Un letto per prigionieri Decostruisci Copia Rimuovi No Non me lo fa fare Mi dice solo a chi può appartenere Quindi Forse Non Non posso farlo Forse non posso Ah no Ma 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 Questo Questo è morto Questo è morto E questo è morto Quindi non li posso catturare Se riuscissi a prendere quello Mi piacerebbe Ma Ricard zoppica Eh no Non può più Mi sta scappando proprio E Dwight Dai però Cammina Prova a prenderlo Provaci almeno Non ce la farai mai Non ce la farai mai Ma provaci Che Insomma Ricard ci prova Ma è zoppo No niente È inutile Vi lascio andare Ognuno ha il proprio Ha la propria vita Anche tu libero Intanto lui è scappato Basta Niente La prima battaglia L'abbiamo vinta Però Non l'abbiamo catturato nessuno Se si può catturare qualcuno Intanto gli rubiamo le cose Che Abbano lasciato vestiti Roba che si può usare La mazza chiudata Fantastico Cos'è questo Ah il kit di Di cu Per Di guarigione Ok Non siamo riusciti A catturarlo È vero Anche che non so Come gestirla Questa cosa Se si può fare Vediamo se Nella l'almanacco C'è qualcosa Pris Sto cercando Se c'è un prigioniero Ma non si può Non trovo nulla Vabbè Il gioco ci darà Indicazioni Nel caso si possa fare Altrimenti Capiremo come ampliare Il nostro Insediamento Mod sta riposando Ricard Tu peschi Ma non sei ferito Aspetta eh Eh sì che è ferito Non ti Non ti curi Eh sì Vai a curarti Ciccio Ah bisogna dirgli Aspetta Devo azionare qualche comando Per farglielo fare Aspetta eh Save 10 Sì Così possono Auto Curarsi Nel caso Quindi Ricard Vai a curarti Niente Non lo fai uguale Richiede Qualcuno che lo Boh non ho capito Perché non me lo fa fare Adesso sì Oh finalmente Oh cosa fai tu Una specie di lontra Che bello Ma vai in acqua Ah no si mangia il mio pesce Porca miseria No Non devi Rubarci il cibo Eh Come faccio A bloccarla Mica posso Riccardo Va che ti ha rubato I pesci qua eh Critical condition Di chi E mod ma ti vuoi curare Eh Dove stai andando A pregare Eh non è che Con la preghiera Ti curi però eh Ecco Messa malissimo Well rest Dice che riposata Ma non si cura Vai a curarti Per favore Niente Non lo fa Siete che più di così Non può Oppure l'ha già fatto Oppure non ho capito Oppure non ci sono farmaci Ma No invece ci sono Basta che non mi muori E mod Però sta aumentando Forse Vediamo 11% Vediamo se Migliora un po' Questa cosa Se migliorano I punti Gli hit points Siamo a 12 Ok quindi sta guarendo Piano piano Sta guarendo Chissà se il letto Posso dedicarlo Al Al medico No neanche Nella ricerca C'è qualcosa del genere C'è questo qua Letto per l'infermeria Quindi questo qua Mi permetterà Di dedicarlo Ai malati Ok Va bene Va bene D'accordo Una delle prossime Ricerche da sbloccare Aumento un po' La velocità Però se vi muovete A fare la roba Ragazzi Così avete anche Dei letti Normali Se vi muovete A costruire Legna Ne hanno Fatemi controllare Che la legna Manca sempre Forse no La fanno fuori Tantissimo la legna Butta giù tutto E costruite Sono fuori Tutti gli alberi Del circondario E speriamo Che sono sufficienti In realtà Gli ho dato un sacco Di alberi Da tagliare Ma non li hanno Ancora tagliati Dai ragazzi Su Dwight mangia E ora riposa Va bene Temperatura interna Siamo sui 21 gradi Quindi va bene Fuori siamo a 9 In che stagione Siamo Primavera Va bene Allora Noto adesso Ho fatto caso In questo momento Che non gli ho fatto La porta Per andare di qua E ci credo Che non ci vanno Vai Le metto adesso Così possono accedere Qui E anche il resto Delle cose Da costruire Naturalmente Se no Col cavolo Che ci vanno No Costruiscono dall'esterno Il che mi sta bene Ma la parte interna No Poi Questo letto qua Annullalo E anche questo Annullalo Lo rifacciamo Lo costruisco giù Però Un letto Un letto Qua Letto di Legno Sì Uno da questa parte E uno da quest'altra Ci facciamo anche Una libreria Una per uno Ah ma è sospesa La libreria Sospesa Veramente Mi sa di sì Questo invece Ok Questo mi piace di più Una per uno Ma sì Un po' reddamento Una torcia Anche Di fianco La libreria Mi piace Mi piace Mi piace Adesso costruiscono Bravi Bravi Costruite anche I letti Così avrete Una stanza Ciascuno O quasi Le pecorelle Stanno bene Queste erbette qua Non so se sono medicinali O altro Ma io le faccio Raccogliere Guarda quanto pesce Che c'è Tutto quello che c'è Tutte le risorse Le raccogliamo Vediamo I nostri Le nostre coltivazioni Le carote E sono da raccogliere Ragazzi Su Devo dirvelo io Questi sono al 15% Quindi ancora no Ah no Al 38% Fermalo Ho sbagliato io Ho visto 55 Su 55 100% Pensavo fossero pronte Invece no Queste sono al 15% Questo al 3,5 Al 67 Quindi questi manca poco L'erba invece La faccio raccogliere Questo qui selvatico è al 59% Aspettiamo Adesso ho fatto caso Alla percentuale di crescita Probabilmente precedentemente Glielo ho fatto raccogliere Troppo presto Questo al 22% Questo al 22% Ok dai Qui ci sono ancora i cadaveri ragazzi Datteli una riordinata Per favore Queste erbe 27% Eh sì Devo fare attenzione Alla percentuale Di crescita Se no spreco risorse Le faccio tagliare per niente Tu 50% Però è l'erba questa Non è niente di Particolarmente Fondamentale O meglio sì Ma fino a un certo punto Ho Letto fatto Posso dire a chi Appartiene A mod Dai Mod Hai un letto nuovo Così magari guarisci meglio Visto che sei ancora acciaccata E il suo Coso qui Questo qui possiamo Disfarlo Che non serve più Ma nessuno sta più cucinando Non abbiamo più cibo Animali Cibo animali Ne abbiamo 24 Cibo per Gli esseri umani Invece soltanto 4 Perché non cucinate Non ce n'è abbastanza Cos'è successo? La ferita di qualcuno È Da trattare Ah C'ha la spalla dislocata E come da giusto Vediamo se può fare qualcuno Al posto suo Qualcuno che sembra Vuoi medicina Lui ha 4 No Eh Tu hai 2 Ma ti piace Tu hai 1 Porca miseria La più brava è lei Vabbè Riccardo Prova a farglielo tu Vediamo se funziona Ma no te stesso A lei Aggiustala un po' Ma cosa sta facendo? Non è riuscito Ad aggiustarla però Vediamo se vede Qualche indicazione Su come aggiustarla È dislocata E va bene Si esaurisce In 112 ore E intanto Ha delle Delle malfunzioni Insomma Ma non riesce A muoversi bene Giustamente Chi Perché sei qua? Sei Sei stanca? Non ho capito perché Ah ma no È pieno di sopra E stavo dormendo Pieno di sopra Non capivo Ok adesso ho capito Anche Riccardo Però ti devi aggiustare Aggiustati da solo Eh ma devo dirtelo io Non lo sai da solo Che ti devi aggiustare Dico Porca miseria Eh tu da solo Sei stato capace Di aggiustarti Bene Bene Lui si è guarito da solo Dovrebbe anche aver Guadagnato esperienza Anche se ancora due Vediamo un po' Medicina due Sì E guadagna Quattro volte l'esperienza Perché è la sua passione È una delle sue passioni Molto bene 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 Ah ma io Oh porca miseria Io Ho dato il letto qua Ma non c'è ancora Non c'è ancora il soffitto E non ci può dormire No Eh aspettate allora Gli do una porta Eh o quanto bene Un passaggio Facciamogli una porta Così ci possono andare Di qua Eh Giusto Non ho capito Se mi ha preso bene il comando O no Bloom wall Facciamo che la distruggi E ci facciamo Una porta E ci facciamo un passaggio Così costruiscono anche il tetto E intanto ho lasciato mod Senza Senza giaciglio Porca miseria Che Che distrazione Che distrazione E piove Poverine Che pessima gestione Che gli ho dato Ehi lupo ci mangia le cose Però eh E porca miseria lupo Vedete lasciare le cose Incostudite Se le mangiano gli altri Poi non abbiamo cibo per noi D'altra parte Un Come si dice Un deposito interno Non ce l'abbiamo O meglio potrei creare una Potrei creare effettivamente Però un magazzino Anche lasciando le cose per terra Ma un magazzino Potrei Potrei Adesso appena finisco i letti Trasferisco il tavolino dentro Al posto del Delle cose qua Qua Al posto del giaciglio Gli metto il tavolino da gioco E qua di fianco Ci facciamo il magazzino Costruisco una roba interna E tutte le scorte Le mettiamo dentro la casa Così non ce le ruba più nessuno Dai ragazzi Costruite A chi ho detto di fare Di tagliare la legna Nessuno Tagliare le piante A Ricard Dove sei Ricard? Tu stai pescando Voglio che tagli le piante però Dove sei? Dove sono? Qua Dai priorità a tagliare le piante Per favore Anche se forse Ha più priorità al cibo Effettivamente Però Un po' tutte e due Direi Dove stai andando? A tamare il coso? Dopo Prima taglia questo E anche questo Grazie Ci serve legna Anche questo Grazie Le faccio tagliare un po' Così hanno tutto il materiale Per costruire Una volta che hanno costruito Possono fare tutto il resto Si stanno annoiando Come ho fatto ad annoiarvi Con tutto quello che c'era a fare Più che annoiarsi Si sono disturbati Credo Brava modo Finisci di costruire Basta avere la legna E costruiscono Vediamo se sta Se sta Prendendo Esperienza Sì 1795 Vediamo 1800 Sì 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 Cresce Cresce Per arrivare al livello 11 Esatto Molto bene Anche Riccardo ha guadagnato un punto di Per quegli animali Bene Ma abbiamo Ricoperto qualche animale intanto Oh ma abbiamo dei nuovi nati Non me l'aveva detto che era incinta Però era incinta Eh sì Un giorno Appena partorito Quindi non mi dà l'indicazione che è incinta Ma in realtà lo era Molto bene Quindi abbiamo Abbiamo delle caprette in più Sono molto contenta Cosa è successo? Ancora Eh mod Come devo fare per aggiustarti? Serve qualcuno con capacità migliori di quelle che ci sono? Riccardo per esempio potrebbe Guadagnare esperienza e magari provare a curarti Ma ora che arriva quello che serve a te E ancora due Figurati Intanto Gli rifaccio il giaciglio poverina Che a me ne dorme da qualche parte Dove sei mod? Dove vai? Ah stai andando a letto a dormire? Perché non piove Adesso puoi dormirci Giustamente Adesso puoi dormirci Vabbè Allora il giaciglio lo cancello Che non serve Ma guarisce di più a letto? Vediamo un po' Non mi pare Mi pare che guarisca di più nel letto rispetto a un'altra parte E se è così non lo vedo scritto da nessuna parte 200 punti Questo invece 200 punti No È un mondo di legge 50% Lei invece Uguale No Credo che non cambi nulla Tra il letto e il giaciglio Per quanto riguarda La guarigione Probabilmente cambia con il letto Tipo ospedaliero Quello cambierà Probabilmente Influirà di più Altri animali Non credo che li abbiamo Domesticati Però servirà sicuramente Una Una cosa più grande Una stalla più grande Perché questa è troppo piccola Ma l'avevo fatta per prova Anche apposta Per capire se ne voleva la pena Va bene Quindi Ricomincia a piovere Nel frattempo Il mondo si sta bagnando a letto Poverina Vabbè dai Il prossimo episodio Dovrebbe avere una stanza Come si deve Con un tetto sulla testa E andremo anche a migliorare La stalla per gli animali Va bene ragazzi Interrompo l'episodio Se no diventa troppo lungo Se questa sera Continua a piacervi Lasciatemi il vostro like Così vi fate capire Di continuarla Nei commenti Lasciatemi sempre Le vostre impressioni E consigli Se ne avete Se vi iscrivete al canale Mi fate felice E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi